Abbiamo risposto positivamente all'appello di Anci che ha collegato alla Maratona di Roma un'altra bella iniziativa, la staffetta solidale dei comuni italiani. Il Comune di Pesaro parteciperà con una staffetta di quattro donne. Ringrazio le quattro atlete che rappresenteranno la città di Pesaro, Valeria Baldassarri, Ilaria Sabatini, Manuela Andreani e Laura Magnini. Questo è il nostro team, il nostro quartetto che andrà a Roma. È una staffetta solidale ma andiamo lì anche con un messaggio ben preciso, una staffetta di donne e vogliamo sostenere lo sport al femminile. Quindi Pesaro sarà rappresentata da quattro donne e dall'assessore allo sport donna. Le ragazze sono delle atlete, quindi sono quattro atlete che fanno già attività, quindi sono inserite sia nel podismo che nell'atletica che nel triathlon. Quindi diciamo loro sono delle sportive che sono abituate a correre. Siamo una città che vuole correre e andiamo a Roma. Io correvo, diciamo correvo, quindi diciamo sarò lì ad accompagnare le ragazze, sarò il coach della squadra.